Buone notizie, questo è il tenore del messaggio affidato ai social da parte del sindaco di Ragusa, Peppe Cassi. Motivo i fondi PNRR per la realizzazione di nuovi asili nido e per l'efficientamento energetico del Perracchio, realizzazione di un nuovo asilo nido a Cisternazzi, riconversione di un edificio pubblico esistente in via Mario Spadola in asilo nido, lavori di efficientamento energetico del teatro Perracchio. Sul sito del comune sono stati pubblicati relativi avvisi pubblici, diversamente da ciò che sta accadendo a Ragusa, dove tutte le opere finanziate dal PNRR, spiega Cassi, vengono realizzate nel rispetto dei termini, evitando che anche un euro debba essere restituito, alcune risorse PNRR assegnate da altri enti sono tornate nella disponibilità del governo con la conseguente apertura di nuovi bandi o la riapertura di bandi già conclusi, occasioni che il nostro comune ha nuovamente colto. È il caso ad esempio, spiega Cassi, dei lavori di edilizia scolastica. La prima pubblicazione del bando Ragusa era stata capace di intercettare finanziamenti per realizzare i nuovi poli scolastici di via Australia e Marina, i cui lavori procedono regolarmente. In questa successiva riapertura ecco arrivare i finanziamenti per realizzare nuovi asili in via Spadola e in via Ramelli. Complessivamente Ragusa si appresta a raddoppiare l'attuale capienza dei suoi asili. Considerando i lavori di efficientamento energetico per il teatro per Racchio, il nostro comune ha quindi intercettato e metterà a terra, conclude il primo cittadino, nei settori della scuola e della cultura, finanziamenti per oltre 2 milioni di euro, integrati con 650 mila euro da risorse comunali.